Certo ci deve indurre a riflettere perché ci si può domandare oggi in cui il discorso è delicato di fronte a certi obblighi che tutti si dichiarano disposti a sopportare perché bisogna entrare nella moneta comune perché così hanno deciso i trattati europei e sono chiaramente obblighi espressione di una politica che non pongono il lavoro al primo posto nei valori da tutelare e negli obiettivi da raggiungere, ma che mi pare che siano orientati a sacrificare questo valore che secondo la nostra Costituzione è fondamentale, il valore lavoro per il conseguimento di altri obiettivi che sono invece considerati preminenti e l'interrogativo viene. Tutto questo è compatibile con la Costituzione, non è uno sviamento dai principi e dall'ispirazione della nostra Carta Costituzionale. Io so che il tema è delicatissimo, quindi lo pongo con un punto interrogativo, ma lo pongo.